La droga uccide. Uccide a livello fisico, basta vedere le foto di come si trasforma il volto di una persona che ne fa uso anche da pochi mesi, crea dipendenza, riduce drasticamente le capacità cognitive. Uccide anche a livello sociale, con quello che magari poteva sembrare uno sballo che diventa l'unica ragione di vita, trasforma il carattere, si diventa schiave di chi la vende. Un fenomeno, quello del consumo di sostanze stupefacenti e in particolare di eroina, che purtroppo sembra essere ritornato a farsi preoccupante e significativo, anche nel Tiguglio, con la città di Chiaveri che per la sua posizione centrale è diventata crocevia dello spaccio e del consumo. A confermarlo le stesse forze dell'ordine che stanno portando avanti diverse attività di indagine per risalire e spezzare le maglie di questa rete. Da quello che abbiamo potuto vedere dalle attività di indagine che abbiamo portato a termine in questi ultimi giorni, dove abbiamo arrestato complessivamente quattro persone, tre sudamericani e un italiano, ci inducono a far ritenere che il consumo di eroina sia tornato tra i principali tipi di stupefacenti utilizzati. Chiaveri si conferma centro di smestamento o comunque di spaccio? Più che altro per la posizione strategica che ha, quindi è naturale che attiri più persone. Però l'attività che abbiamo posto di contrasto e di prevenzione sta dando i suoi frutti. Quindi stiamo effettuando tutta una serie di servizi, sia nei pressi degli edifici scolastici, questo per tutelare soprattutto i minorenni, sia in luoghi pubblici ed esercizi pubblici, dove talvolta avviene questo smercio. Cosa spinge il giovane a provare questa droga e quali rischi corre a sua insaputa? Molto spesso vengono vissute come una moda, crea una grandissima dipendenza già dalle prime dosi e questo comporta poi tutta una serie di problematiche sociali, economiche e psicologiche, soprattutto per il ragazzo. Qual è la rete che si deve mettere per evitare che comunque i giovani entrino in questo giro? Cosa state facendo in questo caso? No, noi puntiamo da sempre ad una prevenzione. Questa viene fatta oltre che con appositi servizi da parte nostra, serve proprio una rete sociale che ci indichi situazioni di disagio, diciamo. Per cui scuole, famiglie, con la loro collaborazione possiamo raggiungere sicuramente dei risultati molto più soddisfacenti.